Buongiorno a tutti e bentrovati con l'informazione di Molise TV. Oggi è venerdì 15 gennaio e come di consueto iniziamo il nostro appuntamento dedicato alla rassegna stampa, leggendo insieme le notizie del quotidiano del Molise. Sanità posti letto da sacrificare o torino a termoli passa da 6 a 2 e oculistica resta all'arino ma senza ricoveri. Una cura non indolore, quella emersa ieri all'incontro organizzato dal comitato Pro Santimoteo. Frattura ha parlato di una via d'uscita, anche se i numeri del piano sono quelli indicati. Passiamo alla cronaca, a Campochiaro miracolati passeggeri e autista. Un treno travolge camion sui binari, terrore al passaggio a livello. Sul posto vigili del fuoco, 118 forze dell'ordine per ricostruire la dinamica. Campobasso eroina nelle mutande, arrestati due insospettabili, fermati dai carabinieri vicino Benevento. Nel taglio alto appalti pubblici, ok alla legge delega, trasparenza e legalità, stop alle deroghe. Appalti pubblici con procedure più trasparenti e snelle, con un occhio a rapporto qualità-prezzo, ma anche con lo stop definitivo alle deroghe, tranne che in caso di calamità naturali. Solo questi pilastri della legge delega sugli appalti approvati ieri definitivamente in Senato, con 170 sì, 30 no e 40 assenuti. Per il senatore molisano Roberto Ruta si tratta di una dimostrazione di civiltà. Lavoro, pagamento della Cassa Integrazione, prorogata la convenzione con l'ABI, Isernia, provincia, Coia, neopresidente, assegna le deleghe. Passiamo adesso allo sport, serie D, Lupi, a San Benedetto, si prevedono circa 250 tifosi. Gattari, crede nell'impresa. Calcio violento, aggredisce l'arbitro, tre anni e mezzo di squalifica, un calciatore. E proseguiamo adesso il nostro appuntamento leggendo insieme le notizie del quotidiano online. Tutto Molise. In risalto, mala sanità e giallo sulla morte sospetta di Maria Cristina Melloni, 61enne originaria di Agnone, deceduta al pronto soccorso dell'ospedale veneziale di Isernia dopo quattro giorni in attesa di un posto letto nel reparto di medicina. E poi, buon viaggio fra dolore e incredulità sui volti di parenti e amici che hanno salutato per l'ultima volta Francesco Civerra, il trentenne di Campobasso struncato da un infarto fulminante. E ancora a chiavetta magica l'inchiesta che indaga la clonazione dei dispositivi per pagare snack e merendine nei distributori automatici della Fiat. Continua a far discutere, rinviata nuovamente, l'udienza preliminare. Andiamo adesso avanti con le notizie di Primo Piano Molise. In risalto giunta a Monca. A giorni sarà occupata la prima casella. I rumors dicono che Frattura nominerà subito l'assessore alle attività produttive. Veneziale si prepara a rientrare e Petraroia medita il diatro foronte. Intanto scoppia il caso sull'incompatibilità di Cacciavillani. Il Movimento 5 Stelle non può essere il presidente di Molise dati. Nel taglio alto lo scanto a Campochiaro. Treno travolge camion fermo sui binari. Terrore a bordo. Il mezzo pesante è rimasto bloccato nel passaggio a livello. L'autista ha fatto in tempo ad abbandonare la cabina. Decine di viaggiatori contusi nelle scompartimenti del nuovo minuetto. E poi l'assemblea al Santimoteo di Termoli. Il piano operativo convince tutti in riva all'Adriatico presi impegni sul reparto di Otorino. E ancora a cronaca l'incidente al bivio di Isernia migrante investito sulla strada statale 17 in rianimazione. Il ventennio ha riportato fratture multiple. Termoli, sgominata la banda delle Volkswagen, due foggiani in manette. La polizia ha ritrovato cinque auto rubate. Campobasso nascondono l'eroina negli slip. Arrestati, pusher in trasferte, due ragazzi beccati a Montesarchio. E nel taglio basso le previsioni meteo. L'inverno è arrivato da domani freddo, polare e nevicate. Previsti 40 centimetri di fiocchi su Campobasso. La colonnina di Mercurio scenderà fino a meno 10. Proseguiamo adesso con una notizia proveniente dall'Abruzzo in particolare dalla zona di Vasto. Esplode una bombola, crolla parte di un'abitazione, tragedia sfiorata. Vediamo adesso insieme le notizie sportive, serie D, Lupi. Gattari medita il blitz alla Minadeo. Il capitano parla del match con la capolista Samb. Promozione lo Yelzi vince un altro ricorso contro il Real San Martino e 0 a 3. E a Bruzzo la dirigenza e gli ultra della Vastese chiamano a raccolta il tifo dell'Aragona. E proseguiamo adesso il nostro appuntamento leggendo insieme le notizie del quotidiano online in futuro Molise. In risalto saluto di insediamento del prefetto di Isernia dottor Fernando Guida è sordito dicendo che la prefettura di Isernia è salva. E poi nomine Movimento 5 Stelle uno scempio da prima Repubblica abbiamo presentato una mozione per chiarire l'incompatibilità dell'assessore agnonese Cacciavillani nominato presidente di Molise e dati. E ancora Isernia profugo investito in provincia di Isernia è grave. Lo avevamo previsto e lanciato un monito al prefetto con la campagna integrati sì disintegrati sulle strade no proteggiamoli. E andiamo adesso avanti con le notizie della Gazzetta del Molise. La prima pagina della Gazzetta del Molise è titolata Molise cultura messa parrogo frattura plaude ai 2800 visitatori in meno nei musei e radia al suolo gli assessorati alla cultura e turismo. L'Oscar del giorno è stato assegnato a Lucio Pastore mentre il tapiro ad Antonio Battista. Proseguiamo con la lettura delle pagine interne. A pagina 2 vediamo l'abito sobrio e funzionale della provincia. se la storica biblioteca provinciale Albino tiene ancora le porte aperte l'accesso al pubblico consentito e le funzioni vitali in attività lo si deve al coraggio istituzionale e amministrativo della provincia che lotta contro il disinteresse della regione un organico di 127 unità il presidente e la segreteria regionale due settori fondamentali e nel taglio basso l'intervento della Fusco Perrella la regione non ignori la biblioteca a pagina 3 l'insostenibile ottimismo del governatore in un anno i musei molisani hanno perso 2768 visitatori ma frattura a gongola questa è la strada da seguire è ancora prorogata l'anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione nel taglio basso la cassa integrazione anche per i call center sveglia vediamo adesso insieme le notizie di agenzia stampa molise torna a crescere l'export in molise nei primi nove mesi del 2015 risultati migliori della media nazionale è poi prorogata al 31-12-2017 la convenzione per l'anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinari e in deroga dell'indennità di mobilità esernia morte donna al pronto soccorso Emilio Izzo non si può morire così protocollo d'intesa tra la prefettura di Campobasso e l'ufficio scolastico provinciale e dai quotidiani locali passiamo a quelli nazionali vediamo insieme la prima pagina della Repubblica la prima pagina della Repubblica è titolata PD scontro finale sulle unioni civili bufera su gay punto it emendamento dei cattolici il no dei vertici dem sito pubblica nomi e foto degli anti-adozione e poi già carta come Parigi l'IS attacca Starbucks vediamo adesso le notizie di Libero in risalto esclusivo un'associazione segreta dietro Etruria e Papabowski Flavio Carboni il maesterioso Muredu e Ferramonti fornivano al vicepresidente della banca aiuti e persino i nomi dei dirigenti da assumere gli affari con Tiziano Renzi e Tulliani indagano due procure e ancora euro politici in gita le figi a spese nostre in 102 guidati dalla King costo circa un milione andiamo adesso avanti con le notizie della Gazzetta del Mezzogiorno in risalto PD la mina dei diritti civili cattolici no all'adozione del figliastro sia all'affido personale bufera 5 stelle l'onorevole Fico a quarto il movimento 5 stelle non c'è più iniziativa di 37 deputati stralciare la norma o il disegno di legge rischia mediatori all'opera ipotesi pre-adozione due anni e la murgia dice no alle scorie nucleari la nostra un'azione preventiva dal tamuro assemblea di sette comuni dell'area nel taglio alto scarcerato Savinuccio pace armata già pigia il boss ora è sorvegliato speciale al Bari è alta controlli anti-xilella l'ipotesi accende gli animi De Castro spero sia falso ira delle confederazioni i 5 stelle chiedono una commissione di inchiesta reazioni furenti all'indiscrezione della gazzetta e nel taglio basso a Giacarta attacco Isis stile Parigi e Al-Qaeda minaccia l'Italia sta occupando la Libia mattinata di fuoco uccisi due civili e cinque giadisti proseguiamo adesso con le notizie di avvenire attacchi e minacce kamikaze a Giacarta Ankara colpisce il daes Al-Qaeda contro l'Italia per il suo ruolo in Libia il terrore arriva in Indonesia ma la reazione limita le vittime cannoni turchi in azione su Iraq e Siria forse 200 giadisti uccisi e ancora rimandati sulla libertà di educazione siamo quintultimi nell'Unione Europea e poi unioni il caso si fa serio e ora crescono i nubi concludiamo il nostro appuntamento con le notizie della Gazzetta dello Sport la prima pagina della Gazzetta dello Sport è titolata Real Shock tesseramenti irregolari di Under 18 la sanzione FIFA anche per l'Atletico così Morata resterà Torino e c'è un acquirente meno per Pogba nel taglio alto ecco Spalletti secondo riconquisto Roma col bel calcio e Sarawi e Perrotti e con questo è veramente tutto grazie per aver scelto l'informazione di Molise TV vi lascio al meteo e vi auguro una buona giornata arrivederci il meteo è offerto da signora signora dico a lei a conseglie assegni spendi e risparmi di Molise TV corri a fare la spesa spendi e risparmi conviene spendi e risparmi non sono sconti ma veri e propri assegni spendibili con noi la famiglia raddoppia gli acquisti dai un calcio alle rinunce quotidiane spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere Previsioni del tempo per venerdì 15 gennaio infiltrazioni umide raggiungono le regioni di sud-est determinando una giornata irregolarmente nuvolosa con precipitazioni intermittenti più probabili tra Molise e Basilicata localmente su Alta Puglia e Salento temperatura in temporaneo aumento sia nei valori massimi che nei minimi ventilazione tesa dai quadranti sud-occidentali con mari generalmente mossi anche molto mossi sui versanti esposti Campobasso minima 4 massima 10 gradi Isernia minima 4 massima 11 gradi Termoli minima 9 massima 15 gradi il meteo è stato offerto da signora dico a lei a conseglie assegni spendi e risparmi di Molise TV corri a fare la spesa spendi e risparmi conviene spendi e risparmi non sono sconti ma veri e propri assegni spendibili con noi la famiglia raddoppia gli acquisti dai un calcio alle rinunce quotidiane spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere